Questa è una seria... E пошile? No men, Explaini di usareESSMO Iniziervi a comunque andare Johnny. Se io mi своих detto che... E non mi? Sietebase diersi ancora運endo Gio... Johnny? Va ben Lasciamo stare alle fantasie di Johnny Bentornato su persona... Su dov'è che sent... Johnny mi è confuso Ben tornato su Final Fantasy VII Remake Intermission Dove dovremo portare avanti la missione di Yuffie Che si trova in questo momento nel 737 di Midgar Ovviamente però dobbiamo giocare a, come si chiama lì, il giochino, a Fort Condor Ovviamente andrò off-screen, così magari... Ma per favore, dobbiamo mettere lo screen e poi saltiamo fino a quando non arriviamo alla conclusione con me vittorioso È stato velocissimo, tra l'altro Usciamo Cosa? No, questo non può essere... Sì, non è così! Buongiorno a fortuna, buongiorno a fortuna Ora sto prendendo Midgar, un cittadino a un tempo Aspettate, cosa dicevi? Che tutti Midgar saranno i stessi fatti Ma... ok, Yuffie, non calpestare i sentimenti delle persone qui, per favore Ok, tuttututututu Uhuh Adesso posso andare a sfidare... Chi c'è qua? Il capo reparto della scindra E poi c'è formazione e posizioni Ok Quindi, quando il tuo obiettivo guidi con questo, tu rispondi con questo? Questo giro è incredibile Ciao, Su, come è la conversazione con te stessi? Oh, scusate, non ho chiesto di scendere a qualcuno La mia figlia è morta per giocare questo giro, e ho prometto a le insegnare Ma prima, devo insegnare a me La mia figlia non succederà a Fort Condor, se vuoi? Se vuoi, spero di farvi scendere le cose E... lo farò? Oh, grazie! E' una grande giusta Vediamo Vediamo No, abbiamo un'inversione principale Per l'assetto, vediamo che magari c'è qualcosina in più di carino Veterano antisommossa Interessante Lo prenderei volentieri per... Per il veterano... No, per il veterano, per il veterano antisommossa Ovvio Però che il veterano può anche sparare in alto Mentre il veterano antisommossa... Vedete che ti dico? Ok, ma andiamo avanti così Bravo No, che sto facendo? Via Cominciamo la partita E andiamo off screen E ovviamente ho battuto anche il caporeparto della Shinra Anche questa è la prima occasione C'è la versione caricata a livello 1 Ok Quindi adesso posso sfidare a trattare le cose Tranquillamente agli avversari di livello 2 Vediamo chi c'è qua in giro In giretto Giriamo Qua c'è Un avversario di livello 2 E qui c'è Un altro avversario di livello 2 Ok Sto arrivando No 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 L'altro avversario di livello 2 No No Non so È sufficiente, Shinra Lo capisco Dobbiamo stare qui con loro Non che io sia molto utile Ma ancora Infatti tutto questo succede dopo la partenza di Cloud nella missione con Barrette e Tifa dopo l'infortunio di Jesse. Con Jesse ci ho messo un pochino di più, eh? Jesse, picchiala! Ok, quindi adesso posso andare... Vediamo quanti altri ci sono... Ma come ne è soltanto uno, eh? Dai! Ed è da questa parte. Vediamo chi sarà mai. Dove sto andando? Qua. Di qua, nope. Eh sì, di qua, sempre vedi. Chissà chi è, eh? Chi sarà mai? Vedo uno biondo con una moto. Sto aspetta mio amico! Venite, venite, dove sei! Rocha... Io non ho parole. Cioè, ciao! Perfondo per dire, ma mi ricordi di un amico amico. No, 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 no. Capisce? Oh mio dio che tamarro! Ok... Offscreen! Ho detto che però stavolta l'ho letteralmente asfaltato! Incredibile! 3-0! O non conosce nessuno o per lui sono tutti amici! Quando prossimo ci troviamo sarà l'ho aperto! Il vento nelle nostre pezzi! Non mi faccia venire a guardare per te, mio amico! Ok... Ok... Ora posso affrontare i nemici di livello 3! Uh! Ok, chi sono i nemici di livello 3? Nemici, amici... Eccolo che è! Dov'è che ce n'è soltanto uno! Ed è lui! Wedge! Eccolo! Però ovviamente magari non fa mai male fare un po' di spesa! Dov'è? Dov'è sto andando? Oh! Oh! Adesso sono 19! Super pistore! In realtà difensiva devi impiegare per contro di poter essere... ...eh, vada, bravissima! In realtà mitragliatore! ELICOTTERO DA GUERRA! che ti voglio mi ha più pensiero dove sa tu ti voglio, perchè si qua si è lentissimo bravo 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 adesso andiamo da Wedge come sei Wedge? vedete che arrivano prassi è il tempo per un gioco? è il mio piacere allora facciamo ho avuto ho avuto a te sono un'esperta su questo sono sicuro che prendo un'altra ho cominciato per il cuore oh è vero? puoi parlare la parola Ora vediamo un rock the rock! Qui siamo a Fort Condor con Wedge? Sì! All'ultimo! Maledizione! Meno male! Negli ultimi secondi avevo una delle due aquile che stava morendo al prossimo colpo! Sicuramente ho vinto! Non ho pensato che avevo una possibilità! Sicuramente mi ha mostrato! Vedi che lo faccio! Non sarò chiedere i tuoi cattoli, oi? Si sembra che hai il tuo lavoro per te, miei amici furri! Gatti rilocchi da fuori! Ora posso affrontare il giocatore di livello 4! Sì! Sì! Questo era tutti, certo? Incluso il Grand Master? Quindi dove c'è la mia materia? Io voglio ora! No! Perché so io da chi devi andare, Yuffie! So io! C'è ancora un campione! E il suo nome è Chadli! Oh signore! Chadli è realmente un osso durissimo! Che cosa vuoi fare? No! Che cosa vuoi fare? C'è ancora uno? C'è ancora un Chadli! ovviamente però dammi roba sono caricata due questo gigante è tre strutturatore questo ti prende in modo da me io sono forse sì più chiari di spiegante 3 ce l'ho per favore qua qua ciao 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 che cosa tu ok un po' condor vediamo come può più da questo stronzo oh posizione di spiegante 3 magia invece veleno barriere rigene pbp in effetti qua la base fa molto più male si prendiamo la versione di spiegante 3 cambiamo asset no no infonità ok rituratore ma il segugio si questo no perchè devono essere espertissimi anche il combattimento a terra ricottere da guerra lo prendo lo prendo? si dai 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 lo prendo soldato no ti prego il soldato no facciamo un combattente corazzato ok ma questo è corazzato il trituratore sono ottimi ok andiamo capite che vedrete in diretta lo prendiamo con la base eh con la base eh e gli coppia era da guerra tutto per fuori no perché voglio distruggere il corso il curatore forte il combattente è corazzato tu non vai da nessuna parte tucchialo mare ho fatto l'aero facciamo un wiggen bruttissimo ah sì io però devo giocare tutto questo trituratore tucchialo male che vuoi scusa l'aero utilizzore tucchialo male infatti però qua stanno cominciando a venire in maniera brutta e davano ok ticavano benissimo ragazzi tucchialo male il grannantiere è qui un altro trituratore picchiali male no l'aereo no l'aereo no l'aereo no l'aereo no l'aereo incalza incalza non c'è la mia palla perché non è facilissima morire era il cursore aereo no l'aereo no l'aereo no l'aereo no l'aereo Mamma mia! Non va a dire, non è più! Ricottolo da guerra! Guardate cosa c'ha lui! Non va a dire forzato! Non va a dire forzato! Madonna che sei tu! Ero il pulsore! Ehi! E quante ne hai? Rituratore! Cascita nessuno! Ne hai troppi! Lasciati! Lasciati! Ehh la madonna! Ehh calma! Mi prego calma! Ehh calma! Oh no! Ok, off screen è meglio! Finalmente! Ce l'ho fatta! E dall'ultimo secondo! L'ultimo! Grazie! Come la minaccia di Wutai! Grazie! Grazie! Sì! 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 Ok! Com'è bellissimo! Come bellissimo! E' un secondo secondo terminato! Ok! Ok! Quindi! Mi spetta! Mi spetta soltanto! Ramu! Ok! Ovviamente! Proverò a dargli un paio di botte! Si sa! Ok! Dati per Chatly! Sì! Ovviamente! C'è soltanto Ramu da prendere! Ok! Ehm! Vediamo che comunque può fare! Ovviamente! Off screen! Ma ce l'ho fatta! Splendido! Grazie ai dati che hai provato durante la tua battaglia! Ho successo in sviluppare un nuovo materiale! Un'altra potrebbe dire che eri più veloce che il Lightning! E con il Lord of Lebanon a tua parte! I tuoi enemy saranno sfruttando per mantenere! Sto piangendo! Non ti percebi! Ho preso il Ramu! Ho preso il Ramu! Ho preso il Ramu! Ok! Boomerang! Dove sei Ramu? A me! A me! Vieni da me! In vocazione a Ramu ho metto dei parametri personali! Esper è specializzato in potenti attacchi volgoranti prima di scomparire e infugge notevoli danni magici di tuono con spirale di 7! Mio! 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 È ancora una volta mio! Bene! Insomma gli eventi secondari ormai sono terminati! Perfetto! Quindi per oggi è tutto! Appuntamento al prossimo video! Ciao! Che è quello là sopra? Scusate! Ah cosa usa? Madonna! Va bene! Perché stai facendo stretching su un tetto? Va bene! Ciao! Ciao!